Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del martedì. Oggi è martedì 13 dicembre e ci troviamo, oggi è la quinta volta che ci troviamo insieme per questi incontri amichevoli tra di noi, di informazione medico-scientifica, nella quale cerco di dare le risposte più semplici a chi mi pone le domande durante la settimana. E chiaramente è per me importante sempre ribadire il concetto che è sempre il vostro medico di base il punto di riferimento al quale dovete comunque rivolgervi quando avete dei problemi importanti. Qui io cerco semplicemente di darvi delle risposte sommarie, molto generali, molto ampie, di problemi grossi. Oggi parleremo anche di tiroide, per cui se qualcuno è interessato non andate via perché la tiroide è una malattia molto frequente, soprattutto nelle donne, per cui ne parleremo dopo. Come di consueto, come sempre, io cerco di darvi i risultati di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Martedì 6 dicembre abbiamo fatto un incontro e questo incontro ha raggiunto 41.000 persone. Di queste 41.000 persone, 21.000, esattamente 20.671, hanno visualizzato il nostro filmato. E sono state fatte, questo è il nostro punto forte, sono state condivise, la nostra immagine è stata condivisa per 287 volte da voi. Voi siete che l'avete condiviso e vi ringrazio per questo e vi prego di continuare a condividere questi appuntamenti perché ritengo che possano essere utili anche ai vostri amici. Sono felice di aver letto queste due o tre donne che hanno scritto che in base all'autopalpazione che hanno fatto nella loro vita, ed è quella che io vi ho pregato di fare, hanno scoperto il tumore della mammella e oggi sono salve, sono state guarite e non hanno più problemi. Questa è una bella cosa ed è per questo motivo che io ho tanto focalizzato la mia attenzione sull'invitarvi all'autopalpazione della mammella. Ma oggi non è questo il tema. Oggi parliamo di tiroide e di qualcos'altro perché sono arrivate tante domande relative a questo problema. Paola, parti con la prima domanda che è arrivata e che è legata anche a un dubbio, a un'angoscia, tra virgolette, di una sorella operata di tiroide. Allora, questa signora chiede, dottore, ho un nodulo della tiroide che il mio medico dice essere sospetto. Secondo lei devo togliere tutta la tiroide? Allora, il medico vi ha virato, cioè non sia più così tanto benigno. Allora, innanzitutto io mi preoccuperei più che altro di dire che nella peggiore delle ipotesi, cioè quando ci troviamo di fronte a un tumore della tiroide, a un tumore vero e proprio, state tranquilli perché nella stragrande maggioranza dei casi, più del 90% si guarisce, si guarisce già solo con la semplice atto operatorio, con la semplice chirurgia. Perché ho detto c'è stata un'amica? C'è stata un'amica che ha una sorella operata di tiroide e dice mi hanno tolto tutta la tiroide e sono impaurita, devo preoccuparmi? Assolutamente no e risponderò ad entrambe in questo modo. La patologia della tiroide è una patologia estremamente frequente. Di solito, nella stragrande maggioranza dei casi, è una patologia benigna. È una patologia che interessa più spesso in tutta la tiroide rispetto a una parte della tiroide e in una piccola percentuale di casi vengono riscontrati dei tumori. Di solito si chiama il tumore più frequente, il tumore papillifero della tiroide. Beh, tranquilli, già con l'atto chirurgico, come ho detto prima, si guarisce. Poi ci sono delle terapie che si possono fare a completezza dell'atto operatorio dopo l'intervento chirurgico, qualora le condizioni o il tumore in se stesso lo richieda o sia necessario farlo per stare maggiormente tranquilli. Questo va fatto e va fatto in serenità perché non sono terapie come la gamioterapia, come queste terapie importanti o terapie comunque che sono altamente nocive per la salute del paziente, perlomeno nell'immediato della terapia, non dopo perché lo scopo è sicuramente uno scopo nobile. Però sono delle tre blande terapie che si fanno dopo l'intervento di tiroide. Allora, bisogna togliere tutta la tiroide? Questa è la domanda che molte volte mi si pone. La tiroide è ormai la tendenza dei chirurghi, ma anche degli endocrinologi finalmente, è quella comunque di togliere tutta la tiroide. Perché questo? Per una serie di motivi. Ve ne dico soltanto un paio. I più semplici, quelli che potete capire meglio. Se la tiroide è ammalata soltanto in una parte, non è sufficiente togliere quella parte. Perché? Perché il residuo tiroteo, cioè la tiroidea che rimane, non è sufficiente per supplire alle necessità ormonali che questa paziente ha. E allora questa paziente cosa deve fare? Deve assumere ormone tiroideo continuamente per tutta la vita. Allora tanto vale toglierla tutta la tiroide, perché comunque la terapia la deve fare, perché quello che residua non è sufficiente. E perché va tolta tutta? Sia per questo motivo che è il più semplice, il più banale, ma anche perché prima o poi probabilmente anche quel residuo di tiroide, che magari è sano, ammalerà e comunque può prendere la sua strada. E poi dal punto di vista tecnico, questo è un po' personale, e lasciatelo un po' a noi chirurghi, un reintervento su una tiroide è un intervento estremamente pericoloso per il paziente e credete anche un pochino per il chirurgo che lo deve affrontare. Perché l'intervento sulla tiroide è un intervento che va fatto da uno specialista del settore che si è particolarmente dedicato a questa patologia, perché è un intervento dove vanno rispettate delle strutture estremamente importanti. Non voglio entrare nei particolari, questo per non darvi così paure o angosce, soprattutto a chi ha una patologia tiroidea. Comunque tranquilli, la patologia tiroidea è una patologia che risolve, anche nella peggior caso, nelle peggiori ipotesi, viene risolta già solo dalla chirurgia, per cui se dovesse capitare non cominciate ad urlare al lupo al lupo. Non è il caso. Per quanto riguarda la tiroide, poi magari se voi avete bisogno potete fare delle domande particolari relativamente a questa patologia e vi risponderò direttamente su internet, su Facebook. Qui io penso che sia il caso adesso di dare spazio magari ad altre patologie, ad altre domande interessanti che sono arrivate. Vi prego durante questa settimana comunque di fare le vostre domande qui su Facebook in modo tale che io possa rispondervi o direttamente su Facebook o qui. Paola, andiamo perché il tempo vola. Sì, c'è una signora che da circa quattro giorni ha un dolore ad una mammella vicino al capezzolo. È molto preoccupata e si chiede cosa deve fare. Allora, la signora probabilmente ha una infiammazione della mammella. Ricordatevi una cosa che è una cosa che non dovete prendere per assoluto. Però di solito una patologia importante, una malattia importante non sempre dà dolore. Per cui quando si ha un dolore, come nel caso della nostra amica, probabilmente ha un X e le sta dando dolore. Beh, si faccia vedere dal suo medico di base, si faccia vedere dalla sua ginecologa o da chi ritiene opportuno. Già palpatoriamente si potrà rendere conto di quella che è la situazione. Poi lei saprà sicuramente indicare le indagini strumentali più appropriate per poter arrivare a una diagnosi più tranquilla. Darà una terapia antinfiammatoria e antibiotica per vedere di risolvere il problema. Se le indagini strumentali dovessero deporre per qualcosa di più importante, approfondirà sicuramente la sua malattia. E vediamo quello che succede. Però di solito il dolore non è mai indice di una brutta malattia. O di solito, però è quasi sempre così. Avanti Paola. Un paziente è stato operato in neoplasia del colon. Lamenta disturbi ad andare in bagno con feci sottili. Anche lui chiede cosa deve fare. Beh, io credo che sicuramente il nostro amico seguirà un follow-up. Il follow-up sono quelle indagini che si fanno dopo essere stati operati per una malattia importante come la neoplasia del colon. Sicuramente avrà fatto le indagini adeguate, dei prelievi che vanno fatti, delle ecografie che vanno fatte al fegato, le tacche. E così come delle conoscopie che vanno fatte a distanza, cadenzata dopo un intervento sul colon. Ma delle feci sottili, perché così mi pare si lamenti il nostro paziente, sono delle feci che probabilmente passano in un restringimento. Questo restringimento bisogna andare a stabilire da che cosa è dovuto. Io onestamente penso che l'esame più semplice da fare è fare una coloscopia per andare a vedere. Perché? Perché è probabile pure che lì dove è stata fatta l'anastomosi, cioè dove sono stati congiunti due monconi colici che fanno parte della parte distale e la parte prossimale, laddove è stato tolto quella parte di colon malato, può darsi che quel punto dove c'è stata fatta questo collegamento, in termini tecnico si dice anastomosi, si sia restretto. Restringendosi può essere che le feci passando si assottiglino e diano quella sensazione. La cosa migliore da fare è fare una coloscopia. La coloscopia può prevedere, per esempio, una dilatazione di questo piccolo ristringimento e così la risoluzione del problema. Avanti con la prossima domanda. Un signore chiede, gentile professore, da qualche tempo non riesco più ad andare in bagno normalmente. Ho periodi di stitichezza alternati a diarrea. Cosa mi consiglia? Questi sono dei disturbi che vanno indagati, periodi di alternanza del colon, per cui bisogna vedere da quanto tempo questo problema si pone. Possono esserci anche malattie infiammatorie, croniche del colon, per cui bisogna assolutamente indagare quello che il paziente sta lamentando. Si rivolga, come io mi raccomando con tutti voi, si rivolga serenamente al suo medico di base, il quale sicuramente le saprà dare le indicazioni migliori. Farà fare dei prelievi, con questi prelievi del sangue vedrà già il suo emocromo, verrà dei markers, vedrà tutta una serie di cose che già gli potranno dare delle indicazioni. La ricerca del sangue occulto nelle feci, questo è un esame che noi chirurghi sì, ci teniamo fino a un certo punto perché è inficiato da abbastanza falsi positivi o falsi negativi, per cui non è un esame che noi predileggiamo o favoriamo. Comunque sicuramente un esame che dovrà fare, non ho il dato dell'età, comunque dai 50 anni in su bisogna almeno una volta ogni tot anni fare una coloscopia. Il nostro amico è destinato assolutamente a fare una coloscopia per poter vedere bene tutto il colon dall'ano fino alla fine, fino al cieco, se ci sono dei fenomeni che possano giustificare.